Ciao, sono Fede, chitarrista dei Kremisi. In questo piccolo video vorrei presentarvi la sezione delle chitarre e la sezione delle orchestre. Per quanto riguarda le chitarre abbiamo ovviamente chitarre distorte, pulite acustiche, ritmiche, melodiche, soliste. Quello che rende interessante l'ascolto di questo album è sicuramente l'utilizzo non sporadico ma allo stesso tempo non ossessivo dei tempi dispari. Il messaggio che vuole passare tramite la musica non è mai immediato. Per quanto riguarda l'orchestra il discorso è che si parte sempre da una melodia semplice la quale viene orchestrata in maniera veramente massiccia. Le orchestrazioni sono state composte grazie a un'intera sezione di archi come violi, violi, bianuncelli, contrabassi, a un'intera sezione di bufiati, anche arpe, flavicembari e tanti strumenti anche esotici. Io spero davvero che il lavoro che abbiamo fatto sia gradito e che ci regaliate un vostro feedback che speriamo sia positivo. Grazie a tutti.